A Tacloban la popolazione è allo stremo. I cadaveri si ammassano su altri cadaveri raccolti per le strade della città filippina, mentre in periferia si procede alla sepoltura in tre fosse comuni. La situazione è spaventosa, dicono le autorità, che faticano a fornire una stima precisa del numero dei morti. Secondo l'ONU sarebbero oltre 4.400. Gli aiuti stanno intanto allentamente arrivando. A largo dell'isola di Leite è giunta la porta aerei George Washington con 5.000 marina a bordo. Ha già consegnato cibo e acqua all'aeroporto di Tacloban e il presidente Barack Obama ha annunciato che arriveranno altri soccorsi. A destinazione è anche il primo cargo inviato dall'Italia, che ha stanziato interventi per 1,3 milioni di euro. A sei giorni dal passaggio del ciclone Haiyan, gli sforzi per soccorrere la popolazione non rappresentano una risposta. Ai bisogni di chi ha perso tutto. Abbiamo bisogno di aiuto per risollevare il paese, dice il presidente filippino. Così le persone avranno la capacità di prendersi cura di se stesse. Per ora hanno bisogno di ciò che serve per fare i conti con lo shock del disastro e per prendersi cura delle loro stesse vite. Il presidente filippino, durante la visita ai centri di accoglienza degli sfollati a Manila, ha inoltre sollecitato gli interventi in favore delle 275 mila famiglie che sono prive di cibo e generi di prima necessità.